Il Comune di Firenze punta con determinazione alla mobilità elettrica adottando i veicoli elettrici Renault proprio per lo svolgimento dei propri servizi operativi. Una scelta all'insegna dell'ecologia. A noi piace tanto ed è proprio relativo a pochi giorni fa la consegna ufficiale al sindaco del capoluogo toscano di 53 quadricicli Twisi e di 17 veicoli commerciali Kangoo ad emissione zero. Vediamo. Il Comune di Firenze e Renault Italia proseguono il loro percorso teso a sviluppare la promozione e lo sviluppo della mobilità elettrica nel capoluogo toscano. Dopo un bando pubblico i veicoli elettrici Renault sono stati infatti adottati dalla città di Firenze per strutturare e rinforzare la propria flotta di veicoli pubblici. La consegna è avvenuta naturalmente in un contesto ufficiale alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella e del direttore generale di Renault Italia Bernard Cretien. Più nello specifico il parco auto si arricchirà di ben 70 mezzi tra i quali 53 quadricicli Twisi e 17 veicoli commerciali Kangoo ZE. Abbiamo iniziato la nostra collaborazione con il Comune di Firenze già nel 2011, oggi vediamo il risultato, 70 veicoli Renault elettrici ZE, è un bel risultato. È chiaro che è un piano integrato perché ci vogliono le colonnine, ci vuole anche l'incentivazione all'uso e all'acquisto di questi veicoli, in questo caso è una flotta per il Comune. Sono 400 le colonnine nella zona di Firenze, dunque un numero molto importante che assicurerà al Comune appunto tutta l'autonomia possibile e necessaria. L'indispensabile piano di adeguamento della rete di colonnine di ricarica predisposto dal Comune di Firenze porterà in breve tempo a superare i 400 punti di ricarica. La consegna della flotta dei veicoli elettrici Renault al Comune di Firenze rappresenta anche l'occasione per tornare su un tema molto caro al costruttore francese, ovvero il car sharing. Il car sharing è fondamentale per sviluppare la mobilità elettrica nel nostro paese. Abbiamo iniziato con Napoli, stiamo andando in varie città, è proprio un mezzo ideale per migliorare la qualità di vita nelle città, sia a livello di emissioni che a livello di rumore. Grazie alla già ampiamente diffusa rete dei punti di ricarica e al parco elettrico effettivo già circolante, la città di Firenze si pone una volta di più come avanguardia ed esempio effettivamente applicato di mobilità eco-compatibile, trovando in Renault un partner tecnico assolutamente ideale.